De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. Intanto avete portato i cani nel parco, ma il vostro è un segnale anche di protesta nei confronti di come vengono trattati gli animali, in questo caso i quattro zampe quando accedono nei parchi. Cosa è successo? Beh, è successo che praticamente noi portiamo i nostri cani all'interno del parco e puntualmente, sistematicamente, quando arrivano i vigili ci invitano praticamente a lasciare il parco. E questo perché? Perché esiste un'ordinanza che ha fatto il comune di Avellino che dice che noi non possiamo praticamente entrare con i nostri cani nel parco. Invece lei ha un documento in mano, che è importante. Esatto. Noi praticamente è da un po' di tempo che siamo venuti a conoscenza di questo documento che è un annullamento della sentenza del comune di Avellino e l'annullamento praticamente del permesso di poter... Da parte del TAR, del Tribunale Amministrativo di Salerno. Allora, a questo punto noi vogliamo capire se c'è una sentenza che annulla l'ordinanza del sindaco. Perché noi veniamo cacciati dal parco? Perché oppure il sindaco non ritira questa ordinanza, questo divieto? Anche perché quando noi... esatto, è il 25 aprile, eravamo tantissime persone che avevano i cani... La giornata e la liberazione. Esatto. E c'era anche la signora e gli amici. I vigili ovviamente facevano il loro davere e ci hanno detto che dovevamo andare fuori. Quando abbiamo chiesto spiegazione proprio di questa sentenza, che loro ne sono a conoscenza, un vigile mi ha detto sì, noi siamo a conoscenza di questa sentenza, ma fino a quando il sindaco non praticamente ritira quella che è il divieto di poter entrare, noi siamo costretti a fare il nostro lavoro. Allora, noi vogliamo chiedere al sindaco se esiste qui la sentenza, perché? Che cosa impedisce al sindaco di ritirare il fatto che noi non possiamo entrare? Sì, noi li abbiamo portati in questo momento per il comune e siamo in difetto. Però, secondo il tribunale, il TAR di Salerno, la sentenza è annullata.